In qualche modo impallato il centro-destra non era possibile dialogare, adesso questo dialogo si è aperto. Certo, quello che abbiamo registrato è che ci sono dei no molto forti, per esempio c'è un no della Lega di Berlusconi e della Meloni molto forte, per esempio sul presidente Draghi, quindi bisogna tener conto un po' di tutto. Noi abbiamo detto fin dall'inizio che ci vogliono altri profili e che ci vogliono persone che rappresentino un po' tutti, evitando se è possibile i nomi di parte. No, guarda, devo dire la verità, noi no, sinceramente abbiamo evitato di fare i nomi nostri, che non ne avessimo, però se si parte dai nomi di parte non si arriva da nessuno.